Quest'anno al mio paese il 15 del mese di maggio c'è la fiera, da giorno fino a sera. Sopra le bancarelle ci sono caramelle, noccioline, biscotti, bambole ed orsacchiotti. Mentre compro l'anguilla un'ambulante strilla. Mamme per i bambini o giochi e col cantini. Vendo boppecorni, ciambelle, leccarecca, frittelle, girandole, trenini, trottole e soldatini. Un bambino ogni tanto si inghiozza col suo pianto. Forse vuole qualcosa, ma chiedere non osa. Si passeggia su e giù, fino a non farcela più. A Valentano è sera e non c'è più la fiera.